Il tema è quello della sovranità, naturalmente sul quale noi battiamo da tantissimo tempo, però gli stessi vincoli ferrei che vengono comunicati sia nei governi nazionali, riportando le decisioni dell'Europa, sia soprattutto a livello di Eurogruppo, ebbene questi vincoli vengono immediatamente rimossi ove l'Eurogruppo intenda volerlo fare senza il ben che minimo ripensamento. Ciò significa che in realtà noi siamo in balia di qualsiasi cosa. Allora, se non è una dittatura da questo punto di vista, io non so che cos'altro si può chiamare dittatura. Naturalmente, partendo da lontano, varrebbe la pena leggersi Ezra Pound, io vedo che me lo stanno segnalando in chat, varrebbe la pena leggersi Massimo Fini, denaro, sterco, figlio del demonio, e soprattutto varrebbe la pena chiedersi a questo punto, considerando che ci stanno imponendo, di fatto è già da tempo di tenere tutti i nostri soldi in banca, ma considerando anche il fatto che nottetempo possono tranquillamente decidere di prelevare i nostri conti correnti, varrebbe la pena chiedersi a questo punto che cosa si aspetta dall'andare a prelevare e mettere i soldi in qualunque altro posto, esso sia anche il mattone. Allora, non c'è un solo segnale tra quelli che provengono dall'Europa nel corso degli ultimi 15 anni, sicuro, ma soprattutto nel corso degli ultimi 3 o 4 anni, che non passi per la seguente definizione. Gli stati contano sempre meno, ciò che decide l'Europa deve essere adottato perisseguamente dagli stati. Quindi anche nel momento in cui andasse contro le norme del paese, a questo punto non si può ottenere nulla. Anche Napolitano ha imposto un governo che noi non avevamo eletto, quindi in palese violazione della nostra Costituzione. Però è fatto.